Buongiorno, sono la signora Peninati. Io la prego cortesemente. Mi hanno riferito adesso che mio marito ha peggiorato, che ha bisogno di fare la dialisi. Lì la dialisi non esiste. Per favore, se l'ho potuta andare a prendere. È la voce spezzata dai singhiozzi di uno dei tanti appelli che Chiara ha lanciato alle istituzioni per intervenire in suo aiuto. La sua odissea inizia a gennaio per finire oggi, finalmente, all'aeroporto di Palermo. In queste immagini si vede l'aereo militare in biocontenimento che atterra a Punta Raisi. A bordo, insieme ai sanitari, c'è suo marito, Jaime. Era andato in Guinea, equatoriale, a trovare i suoi genitori ed è stato infettato dal Covid-19 in un momento in cui il coronavirus era solo un problema cinese e l'Africa sembrava esserne immune. Le sue condizioni però sono peggiorate rapidamente. I 50 anni e le patologie pregresse non hanno aiutato ed è subito stato ricoverato in un ospedale della capitale Malabo. Per quattro mesi Chiara ha combattuto con la burocrazia italiana, trascorrendo mesi di angoscia tra appelli alle istituzioni e documenti da spedire. Finalmente, questa mattina, la fine dell'incubo. Abbraccio affettuoso da una città che ha ritenuto doveroso attraverso il suo sindaco accogliere l'appello disperato della moglie e dei familiari di Jaime. Un appello disperato che abbiamo trasmesso, insistendo e contattando personalmente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Esteri, l'Unità di Crisi della Farnesina. Ora Jaime è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, vicino a sua moglie e all'affetto dei suoi figli.